Sarebbero almeno 17 le vittime del crollo di quattro palazzi in Cina. Il disastro avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Huanzu, nella provincia di Zhejiang. Negli edifici di cui uno alto almeno cinque piani abitavano degli operai, in maggioranza provenienti da altre province del paese. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta per risalire alle cause che hanno provocato il crollo.